Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A1 tramonte San Savino e Arezzo in direzione Bologna segnalati rallentamenti e disagi per ripristino urgente e pavimentazione. Sempre in A1 in direzione Bologna tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio. Si ricorda che stanotte in orario 21.6 sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni. In Fipilisi registrano code e rallentamenti in uscita alla strassigna per i mezzi provenienti da Firenze per viabilità esterna che non riceve. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Per il trasporto pubblico locale è in corso la sperimentazione talifaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Ponta Sieve-Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie! Grazie!